Controlla sempre se l'ambiente permette attacchi corpo a corpo speciali. Ok, elimina la regolata con gli attacchi corpo a corpo. No, calci e pugni no. Non vi farò male. Bel lavoro. Prendi il tuo obiettivo alle spalle. Potrai spezzargli il collo. Passiamo a Lady T. Ah sì, Lady T. La mia arma preferita. Brucia! Brucia! Se ti avvicini in silenzio alle spalle di un obiettivo, puoi colpirlo con un attacco letale col coltello. Ok, fai pratica col coltello su questa recluta. Ah, gli attacchi col coltello no? Non ti farò tanto male. Ok, fai pratica col coltello su questa recluta. Dio, che male! Bel lavoro. Dovresti riprovare per cercare di battere il record. Tutto qui. Che ne pensi? Un corso niente male, ma spero che questa vernice sia facile da pulire. Tranquillo, è lavabile.